E' un mio grande reno. Beh, sapete, sono tante le storie che vedono Sirano protagonista, ma fra tutte, la mia preferita è questa. Si racconta che il Sirano ha fatto una cosa solo più di cento uomini. E non perché il suo nome risultasse imperioso nei pettevolezzi di paese. No, no, la parola Gloria non gli appartiene. Beh, sì, per difendere una...